Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Dopo il singolo caso di ieri tornano ad aumentare le nuove positività al coronavirus in Abruzzo. Sono 18 nelle ultime 24 ore a fronte di oltre 1000 tamponi processati. Non si registrano ulteriori decessi per Covid. Vediamo il servizio. Sono 18 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. La fascia di età dei neocontagiati è compresa tra i 25 e gli 83 anni. Così dall'inizio dell'emergenza il numero dei positivi nella nostra regione è ora di 4.034. Non si registrano nuovi decessi e dunque il numero totale resta quello di 473 dall'inizio dell'emergenza, numero che era tornato a salire di una unità ieri a seguito della morte per Covid di un uomo di 76 anni, di Castiglione Messerraimondo. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2970 dimessi guariti, più 4 rispetto a ieri, di cui 15 che da sintomatici sono diventati asintomatici e 2955 che sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 591, più 14 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 176.979 test, 1019 quelli eseguiti nelle ultime 24 ore. 42 pazienti, più 1 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 4, invariato rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 545, più 7 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 566 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 9 rispetto a ieri, 950 in provincia di Chieti, più 3, 1740 in provincia di Pescara, più 3, 745 in provincia di Teramo, più 3, 30 di fuori regione e 3 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Dati invariati per queste ultime due casistiche. Il Consiglio regionale riunito all'Aquila ha approvato all'unanimità il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2020-2024, un documento di 361 pagine. Il piano, come si legge nella nota introduttiva, è lo strumento necessario per conseguire una razionale pianificazione territoriale, per seguire gli obiettivi di tutela e conservazione della fauna selvatica, tutelare l'equilibrio ambientale e gli habitat presenti, oltre a prevederne la riqualificazione e a disciplinare l'attività venatoria per ottenere un prelievo sostenibile. L'ultima normativa risale al 1992 ed era scaduto dal 2005. Sempre il Consiglio regionale nella seduta pomeridiana ha rinviato la discussione sul progetto di legge di riforma della legge urbanistica regionale al fine di consentire ulteriori audizioni. L'Assemblea ha anche approvato all'unanimità la risoluzione presentata da Silvio Paolucci, capogruppo del PD, sulla realizzazione della rete Irrigua nella piana del Fucino, nella Marsica. Ripartire dal lavoro, questo lo slogan di CGL Cisle Will in vista della manifestazione unitaria che si terrà il 18 settembre a livello nazionale in Abruzzo. La manifestazione si svolgerà a Teramo, in Piazza Martiri della Libertà. Il servizio di Paolo Renzetti. Il discorso parte dalla chiave lavoro, il lavoro che manca, il lavoro in crisi, che questa pandemia ha ulteriormente accentuato, dove servono risposte importanti da una politica che noi riteniamo abbastanza immobilista, sia a livello di governo centrale sia a livello di regione Abruzzo. I sindacati CGL, Cisle ed UIL scendono in campo per il lavoro. In vista della mobilitazione nazionale del 18 settembre, questa mattina a Pescara i segretari regionali hanno spiegato i motivi dello sciopero, denunciando l'immobilità della politica e i problemi delle famiglie abruzzesi sempre più in difficoltà. Dobbiamo stare molto attenti, soprattutto in questa regione. È vero che i dati dell'Istat qualche giorno fa ci hanno rassicurato sul fatto che abbiamo perso molto molto di meno di altre regioni d'Italia sotto l'aspetto occupazionale. Però dobbiamo dire che siamo in una fase dove ancora due strumenti di ammortizzatori sociali reggono, uno è il fermo del blocco dei licenziamenti e l'altro è gli ammortizzatori sociali sul Covid che continuano a tamponare questa situazione. La domanda che noi ci poniamo e che vorremmo porre e discutere con il governo nazionale e quello regionale è cosa accade quando questi due strumenti non ci sono più. E poi ci sono tutte le questioni che riguardano i temi sociali. Il 24 sarà la riapertura delle scuole e mancano 2.500 unità nelle scuole in Abruzzo tra insegnanti, personale ATA e personale tecnico. Consideriamo che quasi la metà del personale ATA sono precari. C'è tutta la partita che riguarda il rinnovo dei contratti, il contratto degli alimentaristi, il contratto della sanità privata che non viene rinnovato, pensate, da 14 anni nonostante non ci sembra che ci si trovi in un settore in crisi. Le liste di attesa nella sanità che sono aumentate a dismisura e sui quali vediamo una regione immobili che nonostante due piani per l'abbattimento delle liste di attesa non riusciamo ancora a vedere risultati apprezzabili, anzi, quindi rimettere al centro il lavoro e la condizione delle persone. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Teramo ha condotto una operazione di sequestro di una vasta piantagione di cannabis individuata lungo il tratto del fiume Salinello in località Tortoreto. Ad accudire e annaffiare le 180 piante è stato sorpreso un soggetto di nazionalità albanese arrestato in flagranza di reato. Lo stupefacente una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 200 mila euro. Tania Bonici Castelli. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Teramo ha disposto un intervento immediato sequestrando lungo il tratto del fiume Salinello in località Tortoreto una piantagione di cannabis costituita da circa 180 piante e arrestando in flagranza di reato un uomo di nazionalità albanese. L'operazione è stata frutto della sinergia tra i reparti territoriali e la componente aeronavale della Guardia di Finanza nel controllo economico del territorio. I finanzieri del reparto operativo aeronavale di Pescara infatti nel corso di una ricognizione aerea hanno localizzato un'area lungo il fiume Salinello dove svettava una piantagione di marijuana. Ad intervenire sono stati i militari della compagnia di Giulianova insieme ai colleghi della sezione aerea di Pescara. Attraverso sentieri impervi percorribili solamente a piedi i finanzieri hanno raggiunto la zona collinare dove, nascosta dalla rigogliosa vegetazione hanno individuato la piantagione di marijuana composta da circa 180 piante di un'altezza media di ben 3 metri e mezzo ormai in piena fioritura e pronte per essere raccolte. Custode della piantagione, un soggetto di nazionalità albanese sorpreso ad accudire le piante, annaffiarle e curarne il corretto accrescimento. Una volta identificato l'uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Teramo alla quale dovrà rispondere dei reati di produzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il prodotto stupefacente, seccato e trinciato avrebbe fruttato, una volta immesso sul mercato illegale, oltre 200 mila euro. La piantagione di cannabis è stata opportunamente sradicata dal terreno, un colpo importante alla produzione illecita e allo spaccio di sostanze stupefacenti, una delle principali fonti di arricchimento della criminalità anche organizzata. La concessionaria Strada dei Parchi comunica che per verifiche tecniche da effettuare nella Galleria del Gran Sasso sull'autostrada 24 sarà disposta la chiusura della tratta San Gabriele Colledara a Sergi, dalle ore 22 di mercoledì 16 settembre alle 6 di giovedì 17, limitatamente al traffico proveniente da Teramo e diretto verso l'Aquila A25 Roma. Conseguentemente per i veicoli provenienti da Teramo e diretti verso l'Aquila A25 Roma sarà disposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di San Gabriele Colledara. Per il traffico proveniente da Teramo, di lunga percorrenza, si consiglia di usufruire le autostrade A14 e A25. In alternativa è possibile percorrere la SS80 per il valico delle Capannelle dallo svincolo di Basciano. Cambiamo pagina, la Fondazione Banco di Napoli dopo circa 20 anni decide di agire contro lo Stato e in particolare contro il Ministero dell'Economia per far luce su quanto accaduto nel 1996. Allora infatti il Banco di Napoli era l'istituto di credito più importante di tutto il sud Italia ma a fronte di uno Stato di dissesto lo Stato decise di intervenire con diversi decreti legge che secondo la Fondazione hanno danneggiato gli azionisti e fatto chiudere numerose imprese. L'indennizzo potrebbe arrivare fino al miliardo di euro. Il servizio di Barbara Fino. La Fondazione del Banco di Napoli va all'attacco del governo avviando un'iniziativa giudiziaria nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il ricorso è stato notificato lo scorso 9 settembre dall'avvocato Antonio De Notari Stefani di Vasto Girardi. Nella conferenza stampa svoltasi a Napoli nella sede di Via dei Tribunali Rossella Paliotto, presidente della Fondazione, che rappresenta le sei regioni del Meridione ha spiegato i motivi dell'iniziativa. La Fondazione chiede il rendiconto allo Stato, così come lo Stato ha preso impegno con la legge 588 del 1996 e l'articolo 2 del decreto legge 497 del 1996. Bisogna rendere espliciti i parametri e bisogna, in trasparenza, in lealtà e nell'osservanza che i cittadini nutrono in termini di fiducia verso lo Stato, fare il conto. Quello che sono i numeri col più e quelli che sono i numeri col meno. Se c'è un avanzo va restituito a chi ne è il legittimo proprietario, gli ex azionisti del Banco di Napoli. Sarà il Tribunale di Napoli a dirimere una vicenda sulla quale il CDA della Fondazione ha deciso dunque di concentrarsi per chiudere una partita cominciata nel 1996 e che portò alla scomparsa di molte piccole e medie imprese. La stima d'oggi dell'intero indennizzo per tutti gli ex azionisti potrebbe girarsi intorno al miliardo di euro, aggiunto la Presidente Paliotto. Trattasi di una liquidazione dovuta, dunque anche secondo il Vice Presidente della Fondazione di Baldassarre, che potrebbe essere destinata ad incrementare la promozione dello sviluppo economico e culturale in regioni come il Mulise e l'Abruzzo che fanno da ponte con il resto del Mezzogiorno. Noi interveniamo nelle sei regioni meridionali eccetto le isole, tra queste regioni ovviamente c'è l'Abruzzo, c'è il Molise e con l'Abruzzo c'è stato un link straordinario che è quello della fusione per incorporazione e dell'ex fondazione Carichieti, che per noi ha assunto logisticamente e geograficamente una posizione importante perché dall'Abruzzo noi ci rivolgiamo sicuramente agli abruzzesi, ci rivolgiamo sicuramente ai molisani, infatti si sono creati dei link anche in questi giorni dove abbiamo una mostra che dal Molise è transitata in Abruzzo all'interno della Fondazione Banco di Napoli, quindi un link importantissimo che unisce anche vicende storiche similari, quella della Fondazione Banco di Napoli, quella dell'ex fondazione Carichieti con quella che era la cassa di risparmio presente nella città di Atina. Pronto ad aprire i battenti, il comprensivo 4 di Via Milano a Pescara, quasi ultimati i lavori di sistemazione, si guarda con fiducia al suono della prima campanella, il servizio. Siamo con la dottoressa Daniela Morgione, dirigente scolastico del comprensivo 4 di Pescara, di Via Milano, mancano pochi giorni al suono della prima campanella, professoressa qual è la situazione? Allora noi abbiamo lavorato durante tutta l'estate per un rientro in sicurezza, stiamo ancora lavorando, abbiamo tutte le aule ancora da allestire, alcune da allestire con la modulistica, con la cartellonistica e tutti i banchi sono stati posizionati in modo tale da permettere l'istanziamento che è stato predisposto dai documenti ministeriali e sanitari, quindi i ragazzi entreranno in sicurezza con degli orari in scaglionamenti, abbiamo diverse entrate e uscite nei sei plessi dell'istituto e durante le elezioni potranno togliersi la mascherina perché i banchi sono distanziati secondo le norme previste. Naturalmente la mascherina dovrà essere poi indossata durante tutte le altre attività che prevedono movimento, quindi alzarsi dal banco per esempio per temperare la matita oppure andare in bagno. I docenti avranno una zona di sicurezza di due metri di distanza dal primo banco per cui potranno naturalmente fare lezione in tranquillità, naturalmente se si vogliono poi avvicinare i ragazzi dovranno indossare la mascherina. Dopo tanti mesi si torna dunque a scuola, lei ovviamente ha ascoltato molti genitori, c'è preoccupazione, c'è apprezzione o comunque c'è anche la tranquillità di sapere che i loro figli sono comunque a scuola e sono controllati da insegnanti, da assistenti scolastici? Diciamo che ci sono tanti sentimenti contrastanti, prima di tutto c'è la voglia di ricominciare, di ritrovarsi insieme, il sentimento di grande affetto che hanno i docenti per i loro bambini, le famiglie e tutta la comunità scolastica. Naturalmente la paura c'è, però diciamo che noi cerchiamo di garantire al massimo la sicurezza per i nostri bambini e i nostri alunni, abbiamo nominato anche un medico competente che quindi sarà il primo ad essere informato su eventuali situazioni di disagio, abbiamo la famosa aula Covid che abbiamo chiamato aula zero, che Covid ci sembra una parola che vogliamo un po' mettere a margine della nostra scuola, dove eventualmente ci dovessero essere delle situazioni, i bambini che si sentono male, saranno portati in questa aula con la presenza comunque di docenti o di collaboratori scolastici, chiamati i genitori per poi avviare tutto il procedimento di visita con il medico competente e con il medico di famiglia. I famosi banchi con una sola postazione sono arrivati? Allora noi avevamo già tutti i banchi monoposto, quindi non abbiamo avuto nessun problema e abbiamo ordinato solamente 25 banchi perché abbiamo dovuto spostare una classe della Pascoli qui in via Milano, perché la Pascoli è un edificio storico che ha alcune aule piccole che quindi non abbiamo potuto più sfruttare. Questi 25 banchi non ancora arrivano, però nel frattempo ne abbiamo raccimolati altri da altre classi, quindi in attesa che arrivino pensiamo a metà ottobre. Dopo aver ascoltato le ragioni del no al referendum per la riduzione del numero di parlamentari, andiamo ad ascoltare le ragioni del sì, qui rappresentate dall'avvocato marsicano Leonardo Cascere, già assessore nel comune di Avezzano. Nell'election day del 20 e 21 settembre gli elettori sono chiamati a votare anche per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. I cittadini dovranno confermare o meno il testo della legge costituzionale che modifica gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. L'ex assessore al comune di Avezzano e avvocato Leonardo Cascere si schiera con il sì e spiega i suoi perché. Le motivazioni sono tante, la prima fondamentale è un risparmio rilevante per i cittadini, hanno fatto dei conteggi, si parla in una legislatura di circa mezzo miliardo di Euro, secondo me se quel danare viene rimesso nell'ampito dello Stato sociale, molta povera gente potrebbe risolvere tanti problemi. Il secondo punto è che vi sarà uno snellimento delle procedure all'interno delle due camere e in più ci adeguiamo a quelli che sono i parametri europei. C'è una rappresentanza così enorme, inutile, non ce n'è motivo. La principale contestazione del fronte del no riguarda la riduzione di rappresentatività del Parlamento e il rischio di avere territori che conterebbero poco o niente in sede parlamentare. Cascere risponde a coloro che sostengono queste motivazioni sottolineando che ad oggi la Marsica non è rappresentata. I rappresentanti del Parlamento noi già non ne abbiamo, nel nostro territorio non ce n'è nessuno. Se non cambierà la norma elettorale che ci dia la possibilità di votare individualmente colui che si cantita, noi andremo a votare quelli che già sono nominati. Chiudiamo con un appello a tutti gli indecisi, coloro che non sanno se votare sì o no, un appello dell'Avvocato Leonardo Cascere. Io direi che votare è un obbligo morale, prima di tutto, quindi andare a votare è obbligatorio, sia nell'ambito elettorale politico, sia nell'ambito referendario, anche perché questo referendum quindi non ha bisogno di quorum, quindi basta un voto in più per vincere. L'appello è questo, cercate di capire che noi dobbiamo snellire tutto, snellire il Parlamento è un dato importante, in più ho dimenticato di dire che soltanto 5 persone potranno essere nominate senatori a vita, che secondo me dovrebbero essere eliminati completamente. Alvia Start Cup 2020, l'evento che partirà il prossimo 18 settembre, è stato presentato questa mattina presso la sede della Camera di Commercio di Chieti Pescara, vediamo. Cerchiamo di dare un contributo importante a far crescere le start-up e praticamente sono i cervelli del futuro, nella vita, dicevo pure prima, uno vale quando sa, noi speriamo molto da questi giovani brillanti, che hanno idee, perché ci vogliono le idee, poi i soldi si trovano. Il 18 settembre, data di apertura della call, ci sarà l'avvio della seconda edizione della Start Cup Abruzzo, competizione che nasce con l'intento di favorire la creazione di nuove imprese nella nostra regione, selezionando e accelerando i migliori progetti ad alto contenuto tecnologico provenienti da università ed enti di ricerca locali. Con questa edizione l'Abruzzo partecipa per il secondo anno consecutivo alla Business Competition, che annualmente si svolge nelle regioni aderenti al PNICUB, l'associazione che riunisce l'università e incubatori universitari italiani. Per noi è molto molto importante che le start-up trovino un sistema, attraverso questa piattaforma, di sostegno fatto sia dalla parte delle grandi imprese, sia dal sistema camerale, che è molto molto importante nelle attività di supporto, e sia dalle università che danno quel contenuto di conoscenze e competenze che di fatto molte volte manca ai progetti. Saranno valutate la motivazione e le competenze dei candidati a questo premio. Noi siamo orgogliosi come sistema camerale e in particolar modo come Presidente dell'Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio Chiti Pescara, perché è la prima volta che finalmente accogliamo un premio e cerchiamo di lavorare come un ecosistema a livello regionale per fare in modo che i cervelli rimanghiano in Abruzzo. Fino a fine mese potrà essere richiesto il bonus pubblicità, che consente di dimezzare l'investimento da parte delle aziende grazie al credito d'imposta, il servizio di Giuseppe Carriera. La pubblicità è l'anima del commercio, recita un vecchio detto che rimane attuale in epoca post-pandemia, in cui gli operatori commerciali e i liberi professionisti sono alla ricerca continua ad strumenti validi ed efficaci per ridare vitalità e fatturato alle loro imprese. Ottime notizie in tal senso vengono dal bonus pubblicità, che può arrivare a dimezzare l'investimento per la pubblicità televisiva, ma anche radiofonica, sui giornali cartacei o online. Con il primo settembre scatta infatti il periodo finestra di 30 giorni, che dura fino a fine mese, in cui richiedere il credito d'imposta del 50% su quanto già speso nel corso dell'anno 2020 e di quanto programmato come investimento fino a fine anno. Una misura importante che il legislatore ha inteso rafforzare ulteriormente nella dotazione finanziaria totale dai 60 milioni previsti dal decreto sviluppo, ampliata a 85 milioni di euro, con il cosiddetto decreto agosto e ampliando la platea di soggetti che possono richiedere il beneficio. Praticamente possono accedere tutti i possessori di partita IVA, anche a regime agevolato, mentre il credito d'imposta massimo ottenibile del 50% è su tutta la spesa effettuata al netto dell'IVA. Una spinta significativa che punta a un risultato triplice consente al pubblico di venire a conoscenza di offerte e opportunità commerciali, alle aziende di incrementare o consolidare il fatturato e, cosa non secondaria, di concentrare gli investimenti pubblicitari su testate giornalistiche registrate che offrono lavoro a tantissime persone, in regione come in Italia. Come TV6, che da sempre è al servizio dell'economia regionale, anche alla luce degli ascolti record registrati nell'ultimo periodo e la costante presenza sul territorio abruzzese. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, tutte le norme, i link di accesso e le FAQ per le risposte ai quesiti più ricorrenti. Il consiglio per gli imprenditori è quello di chiedere subito informazioni al proprio commercialista e rimettere dunque in moto l'economia della propria azienda, che è parte poi del sistema Italia. Ed ora lo sport sarà a Monza Spalla ad aprire il campionato di Serie B, venerdì 25 settembre alle ore 21. Nelle prime due giornate il Pescara sarà in campo sempre di sabato, contro il Chievo alla prima giornata il 26 di settembre, ore 14, un orario desueto. Per quanto riguarda la Serie B, come desueto l'orario che riguarda la seconda giornata di campionato, pescare in campo sabato 3 ottobre a Reggio Calabria contro la neopromossa Regina, ore 16 e 15. E ai nostri microfoni si presenta il neocentrocampista del Pescara, Stefan Omiunga, che è arrivato a titolo definitivo dal Genova firmando un contratto triennale. Belga ma di origini congolesi, Omiunga è un calciatore tecnico ed utile, può giocare sia da regista che da mezzala. Ascoltiamolo. Ecco uno dei volti nuovi del Pescara, Stefan Omiunga, arrivato dal Genova. Si parla molto bene di te, arrivi in una società ambiziosa come il Pescara, che vuole far bene nel prossimo torneo dopo la sofferta salvezza dell'ultimo campionato. Bene, perché anche io sono ambizioso, penso che abbiamo fatto, cioè non è ancora finito il mercato, però abbiamo fatto già qualche buon acquisto e poi il gruppo è bello dinamico e abbiamo tutti fame e voglia di far bene. Molti si chiedono come mai Stefano Omiunga giochi in Serie B, il giocatore che potrebbe giocare molto tranquillamente in Serie A. Però non sono l'unico, se si guardi la rosa ci sono anche dei giocatori che hanno la qualità per giocare in A. Se siamo là è per un motivo e abbiamo tutti voglia di salire. Cioè, abbiamo voglia di far bene e poi si verrà come andrà il campionato. Sei giovane, hai già una certa esperienza in Italia, hai giocato in una provinciale come Lavellino, ma poi hai indossato la maglia del Genova. Arrivare a Pescara per te oggi cosa significa? Io ho visto questa piazza come una piazza importante. Pescara è una società importante che anche nel passato ha dimostrato di essere una bella società. E quindi il campionato che ha fatto l'anno scorso non è da Pescara. Quindi io sono venuto qua solo per far bene, per rilanciarmi anche. Il presidente sia il mister mi hanno dato questa fiducia, hanno creduto in me. Devo ringraziarli e anche dimostrare sul campo che sono un bel acquisto. Trattativa veloce, come è nato questo interessamento del Pescara e come si è chiusa questa trattativa? Io ho parlato con il mister Odo, è lui che mi ha dato questa voglia, che mi ha dato questa sicurezza di venire qua. È vero che questa trattativa è andata veloce, però è meglio. Così sono venuto più presto e sono venuto per vedere i ragazzi e anche conoscere il mister e tutti. Per chiudere, quali le tue caratteristiche dove preferisci giocare? Perché sei un giocatore tra l'altro molto duttile tatticamente. Qual è il modulo che preferisci? Il modulo che il mister sta mettendo, che sta facendo, mi piace. Facciamo il 4-3-3, non lo so se giocheremo così, però posso fare tutti i ruoli al centrocampo. Ovunque il mister mi metterà io darò il massimo. Polemica a distanza tra due ex allenatori del Pescara. Subito dopo la salvezza, Andrea Sottilla aveva dichiarato di aver trovato una squadra in deficit di intensità e condizione fisica. A un mese di distanza è arrivata sui social la risposta di Nicola Legrottaglie, tecnico che era stato avvicendato da Sottilla all'inizio di luglio. Non amo giudicare gli altri, ha scritto Legrottaglie, e non mi piace quando il bersaglio dei giudizi sono io. Quando chi mi succede dice di aver trovato una squadra senza autostima, scarica e con problemi di tenuta atletica, sta giudicando. Male il mio lavoro e quello del mio staff. Io penso che non si dovrebbe mai criticare il lavoro dei colleghi che ci hanno preceduto. Si rischia di fare indirettamente una critica peggiore a se stessi quando i risultati sono inferiori rispetto a chi si sta giudicando. Soprattutto però non lo si dovrebbe fare per una questione di etica professionale, di serietà e per quella buona educazione che si dovrebbe diffondere quando si sta sotto i riflettori. Il mondo del calcio, che gode di queste luci, ha bisogno di valori, non di veleni. Assumersi le proprie responsabilità è un principio che sta alla base della crescita, scaricarle sugli altri e la cicuta della nostra società. Ed ora la Serie C perché sono stati diramati i gironi della terza serie dopo la decisione della Federcalcio che oggi ha ratificato il ripescaggio di Foggia e Bisceglie in Serie C al posto di Bitonto e Picerno. Teramo inserito nel girone C in compagnia di Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juvestabia, Monopoli, Paganese, Palermo, Potenza, Ternana, Turris, Vibonese, Virtus, Francavilla e Viterbese. Ci sono poi due slot liberi che sarebbero quelli assegnati a Foggia e Bisceglie. Slot che saranno riempiti non appena Foggia e Bisceglie avranno perfezionato la loro domanda di iscrizione al campionato di Serie C. Dunque, girone meridionale confermato per il Teramo. Girone assolutamente duro da affrontare. E poi ancora calendarizzate le tre partite con le squadre abruzzesi per il primo turno di Coppa Italia. I tre match si giocheranno tutti mercoledì 23 settembre. Prima squadra a scendere in campo sarà proprio il Teramo a Piacenza contro la compagine emiliana alle 15.30. Alle 18.30 sarà la volta del Pineto che giocherà in casa della Feralpi Salò. Alle 19 si disputerà l'incontro tra Catania e Notaresco al Massimino. Sono gare secche e in caso di parità si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore per conoscere il nome della squadra che avanzerà al turno successivo. E ora scendiamo in Serie D perché domani ci sarà il sorteggio dei gironi. Vediamo le ultime indiscrezioni in questo servizio di Jacopo Forcella. Cresce l'attesa per la composizione dei gironi di serie di primo passo verso il ritorno alla normalità e in campo programmato per il prossimo 27 settembre. Ma che soprattutto segna il ritorno dei dilettanti dopo lo stop definitivo decretato causa pandemia. L'Abruzzo che ha perso il Chieti e l'Avezzano tornate nel campionato di eccellenza resta con cinque rappresentanti. Notaresco, Pineto, Vastese, Giulianova e la matricola Castelnuovo. Il girone sarà quello F ma chi ci sarà dentro quel raggruppamento sarà tema delle prossime ore. La classica dislocazione geografica delle pretendenti al posto in Lega Pro per tradizione vede oltre l'Abruzzo anche le Marche e il Molise con qualche deviazione a nord verso la Romagna. Ma stavolta il nodo da sciogliere sembra più grande e comprende la possibilità di inserire squadre laziali all'interno del raggruppamento F. Non sarebbe una novità assoluta perché già dalla stagione 2019-2020 la presenza del Fiuggi aveva già aperto la strada al rientro di una regione che negli anni passati aveva incrociato spesse volte le spade con le nostre compagini. E lo scenario che potrebbe aprirsi è proprio quello? Più che ad esempio quell'apertura verso sud tante volte paventata ma che non sembra essere all'ordine del giorno soprattutto dopo l'addio del Foggia. La retrocessione in serie D da Rieti centrogeograficamente ad un passo dal confine Lazio-Abruzzo sarebbe l'apripista di un taglio a nord per andare verso ovest. Nel girone G, quello dove nelle ultime stagioni sono state inserite le laziali, sono state presenti anche le campane ma soprattutto le formazioni sarde. Nell'ultima stagione le trasferte di Sassari due volte, Arzachena, Budoni, Lanusei e Muravera hanno spinto qualche compagine del continente a chiedere lo spostamento verso il raggruppamento E con Umbria e Toscana. Tornando all'Effe, quali formazioni laziali potrebbero raggiungere dunque le abruzzesi? C'è appunto un'ipotesi che potrebbe vedere scuore come il Rieti, il Latina e un'altra ipotesi che vedrebbe invece Formia, Cassino e una tra Vissartena e Cinzia Alba Longa. Ma queste compagini potrebbero non bastare. Nelle ultime ore l'indiscrezione che arriva dagli ambienti vicini alla Lega Nazionale e direttanti vorrebbero all'interno del girone F due formazioni campane e le più accreditate sono l'FC Matese e il Gladiator. La prima compagine è nata dalla funzione tra il Compensorio Vairano e i Treppini Matese. La seconda è il Gladiator, rappresentante della città di Santa Maria Capoavetere che nell'ultima stagione ha giocato nel girone H. Anche il Cerignola, formazione pugliese, sempre nell'H, potrebbe completare il Mosaico che fino alle prossime ore sarà un concentrato di ipotesi, fino alla decisione attesa per domani. È tutto, i servizi che avete visto in questa edizione sono già disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e io vi auguro una buona serata. Grazie per l'attenzione e io vi auguro una buona serata.